Fondamentale da combattere, insieme, tutti insieme, così come abbiamo fatto finora. Il 12 e 13 giugno dobbiamo andare a votare e dimostrare a questo Paese e a tutto il Governo che noi vogliamo riprenderci i nostri diritti, il diritto all'acqua, il diritto ad un'energia pulita, il diritto al fatto che la giustizia è uguale per tutti e non solo per una persona in questo Paese. Vogliamo fermare la privatizzazione dell'acqua, portare i profitti fuori dall'acqua e l'acqua fuori dal mercato perché è assolutamente impossibile far sì che l'acqua sia gestita con logiche di mercato. Guardate, c'è stato qualcosa di straordinario in questa campagna referendaria, un qualcosa che non era mai successo in Italia prima. È la prima volta che dei referendum sono promossi esclusivamente dalla società civile, dalla cittadinanza attiva ed è qualcosa di straordinario perché hanno raggiunto il maggior numero di firme mai raccolte nella storia della Repubblica italiana. Una rete informale di comitati, sindacati, associazioni ambientaliste ha fatto sì di risvegliare una coscienza civile che sembrava addormentata. Ora abbiamo di fronte a noi l'ultima tappa di questo percorso, di un percorso molto importante che ha veramente un valore che va al di là dei temi che vengono toccati dai referendum. Perché se con questo percorso, fatto appunto di un attivismo e di una mobilitazione che è in primis delle persone, delle persone anche normali, dei pensionati, dei lavoratori, degli studenti, noi riusciremo a vincere questa battaglia. Si apriranno degli spazi politici per tutti. Dobbiamo capire che questo veramente è un appuntamento fondamentale. come è stato il referendum del divorcio degli anni 70, come è stato quello dell'87 sul nucleare. Anche questo sarà un appuntamento in cui potremmo veramente dare una svolta a questo Paese. Potremmo riappropriarci dei nostri diritti, del diritto all'acqua e quindi dei diritti anche dei lavoratori. E' perché noi diciamo sempre che si scrive acqua e si legge democrazia. Perché qui c'è un attacco fondamentale ai diritti, ai diritti anche costituzionalmente garantiti. Stanno tentando in tutti i modi di far sì che questi referendum non vengano svolti. Con dei trucchi. Ci diranno che i referendum ormai sono inutili. Stanno approvando delle leggi truffa sui referendum. L'hanno fatto con il nucleare e ci stanno provando anche sull'acqua. Sull'acqua non ci riusciranno, ma proveranno a dire che comunque sono inutili. Bene, dobbiamo sconfiggere questa logica, che è una logica che parla di interessi di pochi nei confronti degli interessi di tutti. Dimostriamolo il 12 e il 13 giugno, andando a votare sì ai referendum per l'acqua. Grazie.